vi piacciono gli oasis? ah ma allora ma che sto parlando di affatto? ma io non ho capito ma non ho capito io non... non gli piace niente ebbè ma gli oasis hanno fatte tante, mica una sola per esempio nooo e dai e no e? una cassone per te eh solo per te c'è sempre il nostro vasco è quella fammi accortare va facciamo i meggi un pezzo per il quale chiediamo di uscire gli accendini se ce li avete uscite, i telefonini quello che prepara e niente, fa così iscriviti al canale iscriviti al canale iscriviti al canale 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 Grazie a tutti 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 Grazie a tutti